La salvezza già ottenuta non ha affievolito la voglia di fare bene del giarre calcio che vuole e deve onorare questi ultimi 180 minuti di campionato. Giancarlo Fichera ha voluto in queste due settimane a cavallo di Pasqua organizzare alcune amichevoli per fare sì che la squadra tenga il ritmo partita, evitando così il venir meno degli stimoli da competizione. Ieri gialloblu hanno sfidato la giovanile Mascali di Gerry Laguzza, squadra che milita nel campionato di terza categoria. La sgambata per la cronaca si è chiusa con il risultato di 1-0 per il giarre con il gol di Mattia Leotta che vuole approfittare di queste ultime due partite per migliorare il suo score in classifica cannonieri. Il ragazzo di Macchia al momento è arrivato a quota 11, traguardo straordinario se si considerano pure le traversie fisiche che Leotta ha attraversato nel girone di ritorno. Mercoledì invece al regionale il giarre sfiderà in amichevole lo Sporting Tre Castagni, squadra che milita nel girone di del campionato di promozione. Domenica 23 contro lo Sporting Taormina nella penultima di campionato mancheranno gli squalificati Fama e compagno. Grazie a tutti.